Mercedes Ron, è colpa mia? Ringraziamenti. Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che avrei scritto i ringraziamenti in coda a un mio romanzo, avrei risposto che era pazzo. E' da quando ho 15 anni che sogno questo momento, il momento in cui poter dire ce l'ho fatta. In primo luogo voglio ringraziare Penguin Random House per la fiducia, la mia editor Rosa Semper, per avermi fatto quasi venire un infarto il giorno in cui ho ricevuto la sua email. Ti sei rivolta a me come fossi mamica e mi hai donato il più grande regalo che qualcuno potesse farmi. Non dimenticherò mai quella proposta editoriale nell'oggetto della mia posta in arrivo. Grazie a te e a tutti quelli che con te hanno reso e colpa mia qualcosa di spettacolare. Grazie alla mia gente Nuria per essere stata la prima a dirmi che il libro aveva del potenziale. Grazie per avermi guidata e per avermi aiutata in tutto. A mia madre che elogia assolutamente tutto quello che scrivo. Ti ripeto sempre che non sei imparziale, ma immagino che tu sia qui proprio per farmi sentire la migliore. Grazie di essere l'esatta definizione di madre perfetta. A mio padre perché si inorgoglisce e racconta tutto il mondo di avere una figlia scrittrice. Grazie di essere la roccia che continua a lottare senza mai arrendersi davanti a nessuna avversità. Mi ha insegnato che non esiste mera meta, mi ha insegnato che non esiste meta impossibile se si lavora con impegno. Alle mie sorelle Flor, Belu e Ro. Litighiamo, ma ci vogliamo un bene dell'anima. A mia cugina Bar, la mia elettrice Zero. Non sarei riuscita a finire questa storia se non fosse stato per il suo aiuto e il tuo entusiasmo. Ai miei nonni. Pitu, grazie per avermi sempre aiutata quando ti ho chiesto consiglio. A Bo, grazie di esserci sempre. Alle mie amiche, a Ana, Alba e a quel gruppo che inizia con la Zeta. Grazie di farmi ridere a crepa pelle. Grazie di continuare a stare insieme anche se ognuna di noi ha preso strade diverse. Sono cresciuta con voi e vi porterò sempre nel mio cuore. Eva, Mir, che dirvi, che già non sappiate, non ho mai creduto, che avrei trovato due anime gemelle all'università. Grazie di essere a mio fianco dall'inizio di questa avventura. Al mio yellow crocodile, Belen, grazie di condividere con me la passione per la lettura. Hai creduto fin da subito a questa storia e mi hai appoggiata incondizionatamente. Anita, con te ho imparato che sognare è una parola importante. Mi hai insegnato che credere nei sogni è ciò che ci fa essere quello che siamo. Sare sempre la mia compagna in quel percorso che abbiamo iniziato insieme durante il viaggio a Los Angeles. A tutti quelli che si sono uniti a me su WordPad, non avrei ottenuto nulla di tutto questo senza di voi. Sono rimasta a leggere i vostri commenti fino all'alba. Non avrei mai pensato di ricevere così tanto amore da voi. Siamo uniti da ciò che abbiamo ottenuto insieme. Spero di potervi conoscere tutti e di abbracciarvi. E infine a te che stai leggendo il mio primo romanzo, il mio sogno trasformato in lettere, inchiostro e carta. Divertiti!